Ti scrivo davanti al mare che si distende lontano, immobile, la casa odora di latte caldo e gesso meno umido. Ti scrivo, ti parlo, mi sono avvicinata troppo, lo sento e tu opponi l'esistenza, sono una minaccia per il tuo mondo alexandrosi eppure non sono più una donna innamorata. So che a un certo momento te ne andrai, il vento porta i tuoi occhi lontano, ma dammi, dammi questo giorno, come se fossi l'ultimo. Grazie a tutti.